bentornati in questo nuovo video oggi siamo su 60 seconde avevo già portato tempo tempo fa e non avevo fatto la storia c'era storia della sopravvivenza direi di andare a fare la sopravvivenza e vi invito subito a lasciare un bel polizio in su anzi un bel sacco di pollicione in su commentate iscrivetevi qua sotto nel puntino rosso lasciate un bel mi piace come già detto e pagina social dopo finito il video e fatto stato sul canale per non perdervi video prendi subito la figlia e portala direttamente al punto di raccolta poi c'è la maschera prendi la moglie la maschera e buttala poi il fucilozzo la valigia non servirà niente no aspetta però la valigia servirà c'è la torcia bella buona e l'acqua raccoglila bravo poi dov'è l'altra famiglia dove sono gli altri c'è timmi qua prendi un po di scorte prendi timmi e prendi un po di scorte ho finito le scorte scherzavo 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 non vi alterate prendi qua prendi la scacchiera il lucchetto buttati poi prendi il medikit l'acqua e buttati manca no manca gente manca uno della famiglia manca la moglie mi sa che manca la moglie e vabbè speriamo cerchiamo di camparci anche con la moglie è un macello è però proviamoci giorno 1 no ci abbiamo tutti ok dai non siamo messi mai l'unica pecca che non c'ho la mappa credevo molto peggio mentre raccoglievo giorno 1 siamo riusciti a chiudere la bottola un attimo prima dell'esplosione siamo tutti i salvi finché resteremo insieme non avremo nulla per cui preoccuparci abbiamo fatto un accetta non ci ricordiamo visto in rifugio ma non ci lamentiamo avremo però potuto scegliere meglio un accetta me ne sto ok qualcosa è scritto mangeremo barattoli dormiremo sui barattoli sui barattoli è scomoda però e ci parleremo anche con i barattoli l'acqua è a malapena di sufficiente per tutti ok direi che per primo giorno non si mangia questo è poco ma sicuro primo giorno dietina stecchetto giorno 2 vediamo un po stiamo facendo del nostro meglio per mantenere la calma situazione in cui ci troviamo è tutt'altro che normale mary jane oggi non ha dato problemi va bene o male se no c'è la certa lì è stata problemi da bravo scout team mi gestisci il meglio della situazione sembra persino allegro ok dolores abbastanza calma ted non ha nulla di cui lamentarsi un numero grave ok direi zuppa da mangiare a tutti così no zuppa solo solo pappa solo pappa direi di aspettare ancora per la spedizione non avremmo mai immaginato di vivere così a lungo da vedere uno scarafaggio giò non è ancora successo ma ne abbiamo visto uno delle dimissioni di un gatto che cazzo di scarafaggio è la buona notizia è che deve avere spaventato tutti i rati dalla zona quella cattiva che probabilmente ci toccherà nella prima occasione usiamo l'insetticida usiamo l'insetticida direttamente proprio papà un giorno 3 enorme peloso con otto zampe una testa luminescente che cacchio di roba è speriamo di non doverne mai più affrontare perché a parte che usiamo l'accetta timmi non beva troppo tempo devono tutti bere ok tagliamo eh no boh scherzavo ted diamoci tutti l'acqua che per un giorno aspetterai ancora la spedizione è difficile avere la condizione del tempo quaggiù non sappiamo mai se è un giorno oppure notte il nostro se ne sonno ne risente queste terribili lampadini non sono di aiuto ma non possiamo cambiare ci sarà pure una soluzione al problema non di sicuro il medikit amico prepariamo timmi alla spedizione no aspetta prepariamo una spedizione se c'è un modo sicuro per attirare la nostra attenzione a questo e bussare alla porta del nostro rifugio chissà chiunque sia piuttosto insistente continua da ben cinque minuti dovremmo aprire che faccio apro non apro apro non apro apro non apro apro non apro apriamo alla fine era una persona gentile anche se misteriosa con una strana tuta c'è regalato due zuppe buona timmi va fuori con la maschera anti gas timmi ti prego torna con l'acqua ok tornato timmi con dell'acqua non è male ha rotto la maschera anti gas io faccio fuori sto facciamo fuori un figlio durante la spedizione ci siamo imbattuti in una chiesa che ha resistito all'esplosione la maggior parte dell'edificio era ancora intatta ha trasformato in un rifugio sotto però c'era dell'altro non siamo sicuri chi va fuori va la la moglie o la tizia vai da vada con la moglie cosa gli diamo il ciubbiamo il fucile oxo gli diamo il fucile gli diamo il fucile il fatto è semplice se non ci laviamo ci viene la rogna ma sul serio c'è un odore insopportabile e non migliora il certo nei prossimi giorni dobbiamo risolvere la cosa allora ora mi spieghi cosa c'entra la maschera di gas e le pallottole le cartucce insetticida per lavarsi cosa cosa dimmi il mondo infinito ted siamo malati mi siamo la te ci siamo la della madonna il mondo siamo e mondo è finito a chi importa lavarsi e cosa mi lavavo con l'infetticida volevi morire bello buono c'ho tre ammalati cosa faccio teniamo ted cosa volete che vi dica salviamo ted dell'editori mutanti stanno ascoltando la nostra provviste scusa accetta giorno 15 ciao perché c'è un cos'è quella roba gialla abbiamo perso le speranze se dolore se fosse ancora viva sarebbe già tornata per mantenersi aggiornati sui comunicati in emergenza non abbiamo la radio non ci abbiamo la radio non ci aspettiamo che ha fatto subito dopo una catastrofe nucleare invece ecco chiaramente lo spiro di un telefono all'esterno deve essere la cabina dell'altra parte della stanza forse qualcuno dovrebbe rispondere vai figlioccia quando abbiamo risposto telefono abbiamo sentito chiaramente un sospiro di sollievo si trattava di sopravvissuti della città vicina abbiamo iniziato a scambiarci informazioni e che poi caduta lì eccola lì per essere un rifugio antiatomico isolato non è molto tranquillo c'è qualcosa che fa un rumore insopportabile sin dall'alba che ci ha fatto dormire sembra sembra provenga da sotto il pavimento usa l'accetto abbiamo trovato la mappa buono abbiamo deciso di dare un'occhiata con una torcia e a grande sorpresa si trattava di un cane la povera creatura da stanca abbiamo deciso di cogliere altro di noi per la notte il giorno successivo le abbiamo aperto la porta per lasciare la libera parlargli e cercare di tirare sul morale si non c'ho la radio ci arrangiamo la porta si è aperta dimmi che ho un po dell'acqua del libro del libro e basta non c'è nient'altro e le munizioni che che me ne faccio delle munizioni timi si è sempre divertito ad andare in bici a correre come un matto un rifugio di pochi metri a poco da offrire al ragazzo delle gambe timi chiede di uscire meglio fare rischiare la vita per una passeggiata una cosa da genitori responsabile vabbè tanto è il prossimo alla morte quindi facevano divertire da bagliare alla porta può significare tanto una cosa il nostro amico a quattro zampe è tornato e gli diamo la zuppa va almeno il nostro amico a quattro zampe sopravvive con una zuppa tanta timi dove sei andato timi a moto ma che non potevamo aiutarlo forse se ne ne ho reso conto buono calzino mi piace riuscito di senno e credi impazzito tutti manicomio non c'ho il medici non c'ho il medici amico non posso aiutarti abbiamo aperto la porta del bunker per fare entrare un po di aria fresca radioattiva e radioattiva abbiamo scoperto una valgetta al sull'uscio diamogli uno sguardo magari c'è qualcosa di utile ma soprattutto una radio ti prego la radio la figlia se n'è andata buono genie peggiorate quando ho scoperto che non potremmo più votare se n'è andata va a cagare diamine il regalo era una trappola esplosiva perfetto siamo andato anche tim si è ferito ted e mangiamo e beviamo allora ma c'è al monkey in al monkey rino non c'è più la mamma anche rino più quattro d'acqua buona ora beviamo a sprombattuto dovremmo mangiare qualcosa siamo in grado di prenderci cura di noi stessi non è vero non direi cagate che non sai il mio tu ragazzo su doma facciamo pensare l'altra porta proviamo tanto peggio di così non può andare giorno 41 la radio amici la radio radio ben trovato la radio ti prego team team i ted resisti ancora un paio di giorni non sono nemmeno le carte ti prego visto un paio di giorni resisti un paio di giorni per scomporta a modo normale ciccio no aspetta troviamo la radio allora bevi radio ti prego ti prego sopravvivi mi ha fatto una radio all'ultimo ti prego ted resisti governo non è caduto facci ok non hanno comunque ho comunicato le date ma po cacchio ci andava prima radio adesso la trovo c'è dell'estremo è tardi non ce la fa più fine morto grazie anche se chissà magari non sarà il nostro mondo non sarà così terribile vabbè ted erano molto gravi avessi avuto i medici per quest'ora magari potevo finirla beh giorno giorno giornato 45 giorni vabbè ragazzi spero che questo video si è piaciuto nel caso lasciate un bel pollicione su commentate iscrivetevi se non è ancora fatto condividetelo ovunque ci vediamo al prossimo ciao a tutti